Edder. Mech. Pallister. La vittima viveva nel palazzo dove è stata ritrovata e lavorava in un ospedale della zona. Molti testimoni hanno riferito di aver sentito le grida della donna mentre era aggredita. Il cadavere è stato trovato intorno alle 17 e la donna è stata colpita in diversi punti vitali. Più volte all'addome, gli investigatori al momento non escludono la pista passionale, poiché l'ex compagno della donna risulta al momento irriperibile. Intanto, è scattata la caccia all'uomo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.